Paglione ha deciso di donare gran parte delle sue opere della collezione privata al Museo Barbella di Chieti. È davvero una bella notizia per tutti gli appassionati d'arte e soprattutto per la città di Chieti che potrà beneficiare proprio di questa sua donazione. Nella mia mente c'era già, nel mio cuore, il desiderio di lasciare non solo a Chieti ma a tutto l'Abruzzo tante mie opere. Le abbiamo più o meno calcolate oltre duemila, però a Chieti abbiamo dato il meglio, veramente le opere più significative. E questa del Barbella è la collezione veramente più prestigiosa che abbiamo messo insieme, perché ci sono dei capolavori che non sono neanche nel resto dell'Italia. C'è un busto, ad esempio, di Antonio Lopez Garcia che è considerato il più grande artista vivente al mondo. C'è la più bella sala al mondo sempre di Alici Sasso che è stato possibile per mettere insieme perché ho salvato le proprie belle di mio cognato e quindi ho voluto lasciarle alle mie città. E poi tante altre opere, da De Chirico, a Manzù, a Marino Marini, Guttuso, tutti più grandi. Diceva poco fa, è importante ora valorizzare questi beni culturali in un periodo tra l'altro non facile per le amministrazioni pubbliche. Ed è per questo che lui, all'esito di queste donazioni disposte in favore di ciascuno degli enti da lui scelti, ha deciso di promuovere la costituzione di una fondazione, la fondazione Immagine che oggi abbiamo costituito e lui mi ha voluto, di questo lo ringrazio, presidente onorario insieme a lui.